Salve a tutti ragazze e ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono tornata con un altro video collaborazione allora mi scuso perché ultimamente sto facendo un sacco di video collaborazione appunto avevo avvisato che ce ne sarebbero stati un po' perché appunto avevo collaborato con un po' di aziende e però penso che queste due aziende siano l'ultime almeno per quanto mi ricordo quindi appunto penso che questo sia l'ultimo video collaborazione per un po' di tempo come vi ripeto ogni volta le mie opinioni sono mie personali e appunto queste aziende non mi hanno detto che devo dire che appunto tutto mi piace e robe del genere partiamo con la prima azienda che sarebbe TP Dress ah e ovviamente come al solito vi lascio tutti i link dei prodotti qui sotto nell'info box la cosa che ho scelto sarebbe questa pochettina nera e non so, non ha niente di particolare è così semplicissima e dentro ha questo laccetto per attaccarlo qui alla cerniera sarebbe una specie di beauty case io penso che lo userò per metterci i trucchi e nulla appunto mi serviva un beauty case barra pochettina e quindi appunto l'ho voluta prendere perché è così semplice e non ha nulla di particolare però non lo so, mi piaceva è fatta così, qui appunto ha la cerniera e poi qui c'è questo bottoncino poi passiamo alla seconda azienda che sarebbe Choyes allora la prima cosa che vi faccio vedere sono questi calzini non potevo non prenderli sono questi qui e hanno tutti questi panini e veramente sono stupendi non so se li userò mai ovviamente non li metterò mai per andare in giro però magari in casa ogni tanto li userò e questi qui erano taglia unica ho messo questa magliettina che se non sbaglio anche questa era taglia unica è una maglietta non lunga ma nemmeno tanto corta allora qui sopra ha questa parte fatta tipo in retina e poi le maniche sono così hanno questa striscia bianca e poi hanno la striscia nera e appunto la maglietta è nera e ha la scritta armi non so se si pronunci così però se non sbaglio vorrebbe dire tipo esercito o una roba del genere l'ultima cosa che vi faccio vedere sono dei jeans barra pantaloni perché sono un sacco elasticizzati questi qui sono una L perché ovviamente è un sito cinese le taglie sono più piccole quindi appunto ho preso una taglia grande per non rischiare questa volta invece di starmi piccoli mi stanno grandi appunto questi pantaloni sono già elasticizzati però appunto dal sito non sembravano e quindi appunto se li volete prendere vi consiglio di prendere la vostra taglia sono dei jeans neri e hanno questi strappi sulle ginocchia qui e anche dall'altro lato poi hanno questi tre tagli non so se li ho riuscito a vedere su entrambe le gambe e non hanno nulla di particolare a parte per tutti i vari tagli quindi spero che questo video vi sia piaciuto io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo al prossimo video ciao!